Il giovane rapper barese Savino Parisi è in coma dopo un grave incidente stradale. La notizia riportata tra gli altri dalla Repubblica ha gettato nello sconforto i tanti fan che ora stanno riempendo i social con messaggi di vicinanza. «Dai fratello, tornerai a cantare come prima, oppure sei forte, ce la farai!» Savino Parisi, nipote omonimo del boss del quartiere Giappigia Savinuccio, il 24 aprile stava percorrendo in moto una delle principali arterie del suo quartiere quando la moto su cui viaggiava, insieme ad un'altra persona, si è scontrata con un'automobile. Il giovane non ha mai avuto problemi con la giustizia, aveva intrapreso da anni la strada della musica facendosi largo nel panorama Rap giovanile, ora lotta tra la vita e la morte.